posso partecipare anche io alle attività dei comites certo eventi presentazioni concerti spettacoli teatrali incontri di approfondimento sulla storia della comunità italiana gruppi di lettura appuntamenti per promuovere la lingua e la cultura italiana e poi i comites ti aiutano con sportelli informativi dedicati ai tuoi bisogni sostengono i più deboli e chi è appena arrivato in un nuovo paese ti informano grazie a trasmissioni radiofoniche e ai loro social sono davvero tantissime le attività organizzate dai comites e se hai qualche idea la porti e la realizzi con gli altri quindi i comites sono come un gruppo di nuovi amici sì pronti a dare una mano e condividere con te tempo ed esperienza grazie 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 grazie